Grazie Ricordato, voi per questi anni passati insieme in giunto il momento di ricompensare. Andiamo a venire a casa voi a farvi lavorare. E' buon per me che si la muro qui. E' buon per me che si la muro qui. Eccolo! Vado a fare! Vado a fare! Vado a fare grazio! Ti metto pazzo io! Guarda bene la lama, perché sai... Eccolo! Eccolo! Professionale! Eccolo! Eccolo! Vabbè grazie eh! Buongiorno! 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 Vai! Ma dai no! Si può mettere? Si si... Ma si è messo in camera sempre che pucca! No! 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 Prova l'Antonso! Prova l'Antonso! Grazie, grazie, grazie! No! Ti voglio mi nota! A te questi 15 giorni ti pagano anche? Allora te la faccio a te la domanda! Ma te sei un tetto! No! 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 La squadra è... Battere, Inquilici, Luca, Gioppino e Mirna! No! 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 Quello è casa mia! Adesso rimani il migliore! Antonio ci manca! Io è il pezzo migliore! Siamo orfe! Ciao Antonio! Ciao Antonio! Ciao Antonio! Io correte non mi portate! Mi veniva cercato! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ti stima sul vecchio leone! Ciao Antonio! Goditela! Antonio si è sempre stato al numero uno! Grazie Antonio! Ci manca già tanto! Antonio sei grandissimo! Sicuramente un pilastro! Ciao Antonio! Antonio che ne fai con i punti adesso che tu vai in pensione? Antonio ci si aspetta alla prima presentazione! Antonio molti auguri! Buola pensione! Aspettiamo lunedì eh! Alle cinque! Mi raccomando! Un saluto grandissimo Antonio! Volevo stare con te! Ciao Antonio! Ci si vede fra un mese! Antonio i grandi sono sempre grandi! Grandi saluti! Non so che dormo. Ciao! Ciao! Come in! Effidio! Ciao! Ho, c'è! Ciao! 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 Allora via, questo è l'ultimo eh! Ora basta! Non è finito! Anche se vedete il frino, poi te lo finisce! No! Questo è proprio il frino! La è in caputa! Ah! La prendi tutti, la prendi un frino! Oh! Ah! Ah! Pensavo fosse una... ...cellezze! Gira! Che possono... ...fogli... ...di tartame! E' diventato quasi un lavoro scattabile! Bellissimo! Antonio, sono originali eh! Volevo! Ciao! 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 !" No! 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 Grazie Antonio per avermi sempre supportato, ma soprattutto per avermi sempre sognostato. Grazie davvero, buona pensione.